Allora, siamo nell'ultima parte della nostra trasmissione, io prendo lo spunto di non restare fermi, non bisogna restare fermi, è fondamentale. Assolutamente no. Che cosa è cambiato radicalmente? Ma io direi anche nell'arco dei pochi mesi, perché poi... Beh, diciamo la tecnologia continua a far progressi ovviamente. Questo è di supporto. Di supporto, i materiali, però bisogna, nella tecnologia bisogna sapere l'uso di questi, cioè noi sfruttiamo molto di più le performance dei vari prodotti, che prima magari si usavano un 50%, oggi riusciamo a usarli un 100%. Ecco, questo è molto valido e questo proviene da uno studio di progettazione accurata, da prove, da sperimentazioni. Ecco, questo ci dà grande sollievo e grande soddisfazione, perché riducendo i costi otteniamo risultati migliori. Ecco, questo è molto molto importante. Hai dato un messaggio, ho visto una loro presentazione tempo fa a Piazzola, l'ho trovata molto interessante. Dovrebbe andare per tutti i comuni del Veneto perché serve per capire molte cose. E questo è un suo seguace. Gratifica molto tutto questo. Diciamo che in effetti abbiamo avuto, in tutti i comuni che siamo andati, abbiamo avuto delle buone, come dire, minimo 150-150 persone all'ascolto, pertanto un venerdì sera, perché l'abbiamo sempre fatto di venerdì fino ad adesso, valuteremo se farlo giovedì, se questo serve per aumentare la nostra platea. Comunque l'interesse è un interesse comune, è un interesse vero perché la gente ti fa le domande. Ma poi dico sempre toccare con mano. Certo, molti dopo vengono a visitare il nostro centro dove abbiamo appunto dalla geotermia al fotovoltaico, ai capotti, a tutto, in modo tale da recepire cos'è un fabbricato in classe A, proprio viverlo, respirare l'aria che dà questo edificio, in modo tale da avere la consapevolezza, perché le parole a volte si perdono, ma i fatti che si toccano rimangono. Ecco, è una grande soddisfazione questa, noi abbiamo sempre lavorato su questo. Per tornare al fatto delle tecnologie, ci sono tecnologie innovative che dobbiamo testare prima di metterle sul mercato, perché è vero che potremmo ridurre il volume dei pannelli fotovoltaici alla metà di quello attuale, però i costi rimangono quelli e di conseguenza direi, siccome il costo è a Kilova, non è per volume, non è che abbiamo questi grandi vantaggi, avremo un po' meno copertura coperta, ma di per sé quello è l'effetto. Pertanto voglio dire che se quando siamo partiti avevamo 10 metri per Kilova di copertura, per ottenere un Kilova di fotovoltaico, di resa energetica, oggi siamo a 7, è stato ridotto un 30%, però potremmo continuare di questo passo, ma non arriveremo mai a avere una tavoletta da 50 cm per fare il tutto, perché il costo sarebbe troppo elevato, cioè dovrebbe costare non come i 3 Kilova, ma come i 5, allora è antieconomico. Ecco, questo è l'esasperazione, dovrebbe proporre cose, comunque noi stiamo seguendo in tutte le tematiche, dalla geotermia che ci sono innovazioni nella perforazione, alle stesse pompe di calore e quant'altro, lo mettiamo insieme sempre, ogni giorno vorrei dire, abbiamo nuove proposte da fare per far sì che tutto questo sia espressione di massima innovazione testata sul momento che stiamo vivendo e sulla capacità della produzione. Stiamo vedendo il sito che ci dava anche delle indicazioni, ecco qui dei bonus fiscali e dei termini anche entro i quali è possibile giocare. Purtroppo i termini che sono quelli del 31 dicembre, il 65% è un... Ma voi imprenditori a questo punto potrete, perché potrebbe essere un'ottima occasione di rilancio per il settore? Ma io direi di sì, però io ho già criticato questa, la tempistica a partire da giugno fino a dicembre, i sei mesi, al tempo che io progetto, che cerco la finanziabilità dello stesso progetto, mi mangio minimo tre mesi e che cosa vuol dire? Ne stiamo facendo noi, ma non so quanti potremo... Noi abbiamo molti contratti in cassetto che non ho il coraggio di far partire perché sono troppo importanti e non si riuscirebbe a farli nell'arco di tre mesi. Vabbè però intanto... Allora bisogna essere sinceri e dire... Perché bisogna dare chiave in mano il... Deve essere chiuso, deve essere finito. Non è che io posso dire ho iniziato il lavoro, questo è il progetto. No, la previsione del rapporto con il fisco è quella di aver pagato e di aver chiuso la partita, collaudato l'impianto e tutto. E questo non è così semplice in questo momento. Assolutamente. Quindi è molto importante anche avere la conoscenza dei dati tecnici e dei materiali da utilizzare. Assolutamente. Cosa che molte volte succede che i studi proprio professionali non hanno alle basi perché non si interfacciano totalmente con chi poi la vita di cantiere invece la vive. E molte volte si rischia di fare dei bellissimi progetti che però restano su carta perché appunto non si hanno la potenzialità o le conoscenze per renderli fattibili. E questo è un grave. E' quello che è successo anche appunto nella biblioteca dove bisogna rimettere mano a tutta la struttura perché chi ha fatto il progetto inizialmente non ha considerato determinati carichi. Quello che invece adesso bisogna fare per metterla in sicurezza. Assolutamente. Cosa dice? Un po' come battuta di chiusura. Beh che la conoscenza è importante e bisogna diciamo... Anche la sensibilità. Cioè la sensibilità a certi temi perché li conosci però se non ti entrano è anche questo un'altra componente. Teniamo presente che la tematica ambientale per mia mancanza e per mia mancanza non ha mai suscitato un grande interesse da parte mia. Poi ripeto col percorso di studi che ho fatto diciamo che vista da un'altra parte mi ha catturato molto interesse. Secondo me diciamo tutta la tematica ambientale, la sua guardia dell'ambiente secondo me in Italia è sempre stata presentata male secondo il mio punto di vista. nel senso che è stata vista come una bandiera ideologica avanti tutta così che diciamo ha disinnamorato molte persone. Vista in un'altra ottica che è quella più importante la suscita maggior interesse deve suscitare maggior interesse perché riguarda proprio il nostro futuro. Questo è determinante e strategico. Secondo lei se ci fosse un'apertura del patto di stabilità potrebbe essere una chance? Credo proprio di sì. Deve essere una chance. Anche tra le amministrazioni c'è molta più consapevolezza perché lo si vede ogni volta che arriva una bolletta non solo nell'edificio pubblico dobbiamo pensare anche alle abitazioni private che molto spesso molti cittadini vengono a chiederci un aiuto perché convinti di cambiare operatori eccetera di aver fatto l'affare della vita invece si ritrovano un saldo finale che li... Molto salato. Molto salato infatti. Allora ricordando il tutto proprio in chiusura. Beh io mi auguro che ci sia la proroga di questi incentivi perché allo Stato non verrebbe costare niente questo è molto importante perché la movimentazione economica nasse proprio dall'edilizia e se non abbiamo questa non ci riprenderemo mai pertanto è la chiave di volta di tutta l'operazione. Mi auguro anche che ci sia la percezione da parte della cittadinanza sempre più già si vede ma che sia sempre più attiva sempre più come dire curiosa di queste novità in modo tale da far sì di poter accedere perché ripeto non è un costo è un investimento a reddito. Ecco questo io ci tengo a dirlo. E allora ricordiamolo giovedì 17 ottobre domani 2013 Villanova per il futuro sostenibile nuovo centro polifunzionale Tomasoni da energicamente dispendioso a produttore energetico. si trova a Villanova di Campo San Piero in provincia di Padova e l'orario? L'orario 8.30 alle 20.30 quindi tranquilli che dopo entro le 23 insomma è chiuso tutto l'anno di massimo quindi che tranquillizziamo anche coloro che non hanno magari tempo di quando si va a lavorare ma il tutto si risolve sono informazioni molto concrete molto sostanziose date in breve tempo ma soprattutto con delle illustrazioni anche grafiche estremamente eloquenti anche e soprattutto dal punto di vista economico con esempi molto molto concreti di opere già realizzate quindi per capire il complesso del lavoro come si svolge e quanto ci viene anche a costare i risparmi effettivi. Grazie ai nostri ospiti grazie come sempre al Presidente Benetello a voi da averci seguito noi ci vediamo domani. Grazie a voi. Grazie. Grazie a tutti.